Ottava posizione ora, Luca Cadalora con la Yamaha numero 6 è passato in settima posizione ad avanti a Sito Ponce con il numero 1 e Cardus con il numero 8, Cadalora tenta all'esterno su Cardus, quando... e cade Cadalora! Purtroppo è già caduto Cadalora, è caduto Cadalora, è caduto Cadalora al primo giro, è caduto un altro pilota, un'altra, una caduta ripetizione, due cadute, seguono quella di Luca Cadalora immediatamente al primo giro, non ci sono conseguenze per due piloti mentre ci sembra tanto si sta avviando ai box, vediamo il replay, prima cade Cadalora che già in moto sta raggiungendo i box e mentre Cadalora sta per rialzarsi in Codal gruppo due piloti, si toccano ecco, ma soprattutto il secondo che arriva addotto a quello che è accaduto per primo, riusciremo spero a leggere prima o poi i numeri di gara mentre vedo... è stato proprio quello di Barchista con il numero 31 abbiamo visto Barchista superato ora dai bassistrada e cade Carriga, cade Carriga, peccato, peccato... vediamo che prende una brutta imbarcata Carriga un attimo prima di quanto non sia accaduto a Cadalora... in partenza Luca Cadalora nella prova ridata della classe 250 sulla pista di Misano ha dovuto dire addio alle ambizioni di successo dopo il conseguimento della pole position è stata tormentata dalla pioggia, dopo due rinvii i team ufficiali hanno deciso di ritirarsi e in pista sono scesi i privati che dopo un giro di ricognizione hanno preso il via sotto un acquazzone al momento del ritiro era al comando Reini seguito da Schwanz la gara dei privati è stata vinta dal nostro Pierfrancesco Chidi nelle 250 si è imposto lo spagnolo Pons che guida la classifica complessiva con 18 punti di vantaggio su Rougiat e 22 su Cadalora nella classe 80 successo di Jorge Martinez davanti a Gabriele Gnani prima di passare al tennis ricordiamo la splendida vittoria di Ezio Giannola nella gara delle 125 disputata ieri il pilota italiano è il leader della classifica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti